Siamo con Roberto Signoretti, presidente dell'S di Ticino, squadra che disputerà dopo la gara successiva. Ci presenti anche i suoi ospiti qui. Questi sono due dei rappresentanti della nostra associazione, sono Ivan e Giuseppe. Giuseppe è infortunato, quindi stasera sarà solo spettatore. Ivan sarà il nostro portiere questa sera. Faremo una partita contro il gruppo Grumpiff. Siamo felici di essere qui stasera alla loro festa. Speriamo che vada tanto bene e si riesca a raccogliere tanto per loro. Cosa significa la vostra associazione? Di cosa vi occupate? Qual è il vostro scopo primario? Diciamo che noi siamo un'associazione che esiste da circa 20 anni. Per noi lo sport è un mezzo per fare in modo che i ragazzi possano crescere e possano diventare delle persone migliori. Come fare per chi volesse eventualmente contattarvi? La vostra associazione? Avete un sito? Avete una mail? Noi abbiamo un sito internet che è www.ticinosport.it e lì ci sono tutte le informazioni della nostra associazione. Facciamo calcio e nuoto e poi ci direttiamo anche a promuovere qualsiasi tipologia di sport nel mondo per fare emergere questi che sono dei veri atleti al pari di tutti gli altri. In che ruolo giocate? Io buttere! E tu? Io attaccante! 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 E vi divertite? Vi piace giocare? Sì sì! Io sì! Perfetto, grazie mille!